buongiornissimo la merda la merda mi sento molto sgarbi quando dice la raggi va bene allora dopo questo inizio delirante con con tanto di riferimento a sgarbi perché proprio la merda perché la merda perché buongiornissimo la merda perché ne ho le palle piene delle notizie che sto leggendo negli ultimi giorni riguardo alla sigaretta elettronica e torniamo sempre lì l'argomento è sempre la ciccatronica d'altronde siete sul mio canale youtube ho aperto questo canale nel 2014 per parlare di sigaretta elettronica di che cazzo volete che io parli parlo anche di altre cose ogni tanto ultimamente ci ho attaccato anche i vaporizzatori per erbe ma l'argomento predominante rimane la sigaretta elettronica in particolare in questi giorni perché ormai sono io penso due settimane tranquille anche di più in cui non si fa altro che parlare a livello mediatico oltre alle varie crisi di governo questo quell'altro di questi morti per sigaretta elettronica allora a me girano i coglioni a me girano i coglioni e infatti è il motivo per cui sto facendo questo video ne ho già fatto uno qualche giorno fa che però era molto generalista se vogliamo l'emergenza non mi pareva che fosse così grave nel senso che per me è palese che la sigaretta elettronica non c'entri nulla quindi ho fatto un video in cui insomma in linea di massima stavo sul generale sulle grandi linee in termini di spiegazione tecnica del discorso a quanto pare però non basta perché perché prima mi leggo la notizia di del presidente trump che hanno detto vuole bandire le sigarette elettroniche non è vero in realtà la notizia è stata data male se andate a leggervi l'originale e ringrazio il buon michele per per avermi corretto la notizia si scopre che in realtà vuole solo bandi solo vabbè vuole bandire i liquidi aromatizzati ma non la sigaretta elettronica bene poi viene fuori che i morti per sigaretta elettronica sono arrivati a quota 6 in diversi stati americani quindi non solo in illinois va bene allora vediamo un po di spiegare sta cosa perché ne ho veramente i maroni pieni quindi ora vi spiegherò a grandi linee il funzionamento tecnico della sigaretta elettronica per partire da un punto fermo e spiegare il funzionamento da cui già si dovrebbe desumere la minchionaggine della notizia stessa dopodiché vediamo un attimo di fare qualche discorso correlato buttiamo giù due ragionamenti e vi dicendo tenete conto che sono in presa diretta non mi sono preparato il discorso vi sto parlando come se ci fossimo appena incontrati per strada mentre stiamo andando al bar e voi mi voleste fare la famosa domanda oh ma cosa ne pensi di sta cosa che muore la gente per la sigaretta elettronica ecco siccome ne hanno parlato anche sulla rai la rai ok la raggi no la rai e insomma voglio dire stiamo parlando della tv di stato ora non che se fosse stata una tv privata tipo mediaset avrei autorizzato tanto di più la diffusione di queste minchiate però maggior ragione sulla tv di stato mi aspetto che le notizie siano smentite se necessario anche in maniera forte e invece e invece no e invece no qual è il problema che io nelle ultime due settimane sono stato un po in giro un po per vacanza un po perché mi sono spostato di città per motivi vari e l'amorosa e questo e quell'altro insomma come dire sono stato in posti ho conosciuto persone e taluna di queste persone conosciute in maniera totalmente estemporanea tipo che ne so l'anziano che è seduto al bar a farsi uno spritz ecco queste persone parlando del più del meno vedendomi qua con la mia cicatronica che è sempre la faccio notare quindi sempre g class con ambiente single coil mi guardano mi fanno è ma ho sentito che quella cosa li fa morire c'è la gente che è morta no no è questo quello che io volevo evitare con il mio precedente video anche se ormai come dire sono arrivato tardi comunque il problema qual è che la notizia che viene data con in cui il titolo o la prima cosa che viene detta è una roba sul genere bene passiamo ora a un caso di cronaca estera sale a 6 la quota dei decessi probabilmente legati alla sigaretta elettronica questo è il classico titolo che viene dato ora vediamo un attimo di capirci vediamo un po di capirci perché veramente così se no non andiamo d'accordo allora questa è una sigaretta elettronica ok questa è una sigaretta elettronica non è l'unico modello disponibile ce ne sono centinaia una sigaretta elettronica è costituita da un dispositivo quindi diciamo un corpo batteria se così vogliamo chiamarlo quello che eroga e che dà la spinta giusto per chi chi è un hard vapor capirà questo riferimento e quindi questo dalla spinta questo dalla corrente e questo sopra è quello che fa vapore e che viene riempito di liquido bene questa è una sigaretta elettronica esistono anche altri modelli esistono per esempio quelle che comprate dal tabacchino fatte simil penna diciamo in cui voi andate a cambiare solamente le cartuccine interne non dovete sapere nulla di nulla non dovete riempire di liquido non dovete sostituire le batterie non ci dovete mettere le mani con i cacciaviti con il cotone il filo metallico non dovete fare nulla di tutto questo che invece è di competenza appannaggio di questa tipologia di dispositivi che però come vi ho detto non sono gli unici esistenti allora vediamo un po di spiegare il funzionamento base di una sigaretta elettronica così poi magari già da soli potete ragionarci sopra e capire che già dal funzionamento qualcosa non quadra cioè non si può partire da quel funzionamento e arrivare alla morte a meno che l'utente finale non faccia qualche coglionata come esattamente è accaduto in america sei morti sei sei morti in diversi stati americani insomma la cosa fa quantomeno riflettere ma andiamo a vedere un attimo cosa è successo allora la sigaretta elettronica questa o quella fatta a penna che comprate dal tabacchino ha il medesimo funzionamento il principio è sempre lo stesso ovvero un filo metallico spiralizzato quindi una bobina una resistenza elettrica con al suo interno all'interno del tunnelino che si forma per via proprio della forma spiralizzata del filo si forma chiaramente una bobina quindi un immaginario cilindro dentro questo cilindro normalmente ci si caccia dentro del cotone idrofilo o un qualche foro un qualche tipo di materiale assorbente questo materiale assorbente pesca il liquido per sigaretta elettronica all'interno del serbatoio quindi abbiamo qua proprio il caso eclatante ed evidente questo è tutto il serbatoio come vedete vediamo un po se riesco a fare la bollicina qua dentro c'è comunque il liquido ecco lì che si vede il bordo del liquido bene qui abbiamo comunque del liquido il liquido che cosa fa mi va a entrare all'interno della camera di atomizzazione tramite questo questa fessura che io posso come vedete regolare aprire chiudere eccetera una volta che entra dentro lì è presente del cotone che in questo caso ho messo io che assorbe il liquido lo veicola fino alla resistenza visto che il cotone stesso è inserito nella resistenza a quel punto tutto il filo metallico sarà bagnato sostanzialmente di liquido per sigaretta elettronica quando io vado ad attivare quindi a dare corrente sentite questo frigolio questo frigolio e vedete il vapore che in effetti sta uscendo dalla presa dell'aria a segno a dimostrazione ecco a dimostrazione che quindi si è sviluppato del vapore perché succede questo perché il liquido per sigaretta elettronica ha un punto di ebollizione quindi bolle e quindi crea vapore verso i 200 220 240 gradi più o meno la fascia è quella quindi che cosa succede che io sulla mia cicatronica come potete vedere vado a impostare 220 gradi ok vediamo un po no non metto nemmeno a fuoco lascio che si arrangi lui 220 gradi si vedono comunque quello è il valore di temperatura a cui la resistenza non deve andare oltre e glielo ho detto io vedete che comunque vaporizza bene e quindi alla fine io faccio le mie nuvolette simil fumo ma non è fumo questo è il principio di funzionamento di qualsiasi sigaretta elettronica tanto quella fatta a penna del tabacchino quanto sto tafanario gigantesco che pesa mezzo chilo a momenti che posso collegarlo con il bluetooth al telefono ci metto le mani io gli posso togliere le batterie eccetera eccetera quindi dal modello più semplice al modello più complesso il funzionamento è sempre quello di un filo metallico che viene scaldato per passaggio di corrente elettrica quindi per effetto joule o joule se volete dirlo sbagliato ma comunque in maniera accettabile quindi effetto joule o effetto joule scalda il filo metallico il filo metallico è sostanzialmente cosparso di liquido questo liquido va in vapore e voi vi ciocciate il vapore questo è bene com'è che si arriva alla morte? facciamo un altro passo indietro o avanti come volete nella spiegazione allora qual è la differenza tra una sigaretta elettronica e una sigaretta di tabacco una pipa un chillum un bong o qualsiasi cosa funzioni a combustione compresa la lattina di coca cola buccata per fumarsi il crack ok qual è la differenza la differenza è che nel momento in cui voi andate a dare fuoco a qualcosa che sia esso tabacco canapa crack segatura quello che volete ecco succede che viste le alte temperature della combustione perché comunque un accendino o la braccia di una sigaretta lavorano tra i 600 e i 900 gradi centigradi quindi stiamo ben alti ecco nel momento in cui voi andate a dare fuoco sviluppate tutta una serie di sostanze cancerogene prima fra tutte il benzopirene che sono derivate dalla diciamo errata combustione della materia prima errata nel senso che la combustione imparziale quindi in presenza di scarso ossigeno causa la produzione di questo benzopirene in realtà non c'è nessun modo per bruciare in maniera consona la materia prima e potersela fumare ovvero la combustione con lo scopo finale di fumare produrrà sempre benzopirene non se ne esce da lì ok la differenza è che qui invece non c'è combustione perché come vi ho detto prima la resistenza viene scaldata per effetto Joule quindi per semplice passaggio di corrente come succede nella resistenza del forno elettrico a quel punto però il passaggio in vapore avviene per semplice somministrazione di energia non avviene perché gli state dando fuoco è liquido per giunta per cui difficilmente potrà prendere fuoco visto che comunque non è nulla di cioè non stiamo parlando di idrocarburi, petrolio, benzina è una miscela, il liquido per sigaretta elettronica è una miscela di glicole propilenico glicerolo vegetale a volte acqua a volte nicotina se ce la volete mettere e a volte aromi se ce li volete mettere nel mio caso per esempio io mi sto svapando la base neutra che quindi è la versione più semplice di liquido per sigaretta elettronica e stiamo parlando quindi di glicole propilenico appunto glicerolo vegetale nel mio caso c'è anche acqua e ci ho messo della nicotina basta questa roba non prende fuoco non può prendere fuoco ragionevolmente parlando ok ed è questa la differenza tra un sistema a combustione quindi appunto sigaretta, pipa, cilum, bong quello che volete narghilè e una sigaretta elettronica che invece vaporizza infatti la sigaretta elettronica è impropriamente chiamata sigaretta in realtà sarebbe un vaporizzatore personale ok un vaporizzatore per liquidi né più né meno di un aerosol come l'aerosol quello in cui ci mettete dentro il clenil per spurgarvi il naso tipo ok bene allora che cosa capite già che quindi c'è una differenza di partenza nel funzionamento tra una sigaretta standard tipo quella che vi comprate e che è dentro il pacchetto di sigarette là ci date fuoco con la fiamma e un aggeggio del genere in cui fiamma non ce n'è combustione non ce n'è l'unica cosa che vi può far male eventualmente per la salute è ciò che andate a metterci dentro perché come vi ho detto questo coso funziona con dei liquidi né più né meno come le sigarette funzionano con il tabacco qual è il cazzo di problema secondo me il problema è che la gente è abituata a ragionare in termini di sigarette come una cosa che vai a comprare quindi se uno ti chiede una sigaretta tu tiri fuori una cosa che è già precostruita e gli dai la sigaretta che quindi è stata per esempio che ne so costruita dalla Philip Morris ok e ha tutto il suo processo produttivo il suo controllo di qualità papappero papappà in realtà se ci pensiamo un attimo le sigarette per comodità le compriamo già fatte ma come sappiamo benissimo c'è tutto il mondo del rollo del land rolling quindi farsi le sigarette come si faceva 50 anni fa cartina, tabacco, filtro e via dicendo allora nel momento in cui voi ragionate su una sigaretta elettronica non dovete pensare come a un pacchetto precostituito che io vado in negozio e loro mi vendono questa cosa e basta e io la userò per sempre senza farci nulla no la sigaretta elettronica è molto più vicino al mondo della pipa che non al mondo della sigaretta la pipa ve la vendono precaricata? no vi vendono una pipa una pipa di diversa marca di diversa fattura di diversa qualità ma sempre una pipa vuota e poi siete voi che ci mettete dentro il tabacco siete voi che di vostra iniziativa magari decidete di aromatizzare il tabacco con la buccia di arancia con un bicchierino di whisky con l'aromatizzazione in botti di rovere o quel cazzo che volete voi ma la pipa di per sé è un oggetto vuoto ok ugualmente la sigaretta elettronica di per sé è un oggetto vuoto poi quello che ci andate a mettere dentro è lì dipende da voi ora come avevo già detto l'esempio della pipa mi piace molto perché secondo me funziona bene cioè è proprio il parallelo ideale nel mondo della combustione o nel mondo più conosciuto dal cittadino medio allora se io nella mia pipa ci metto dentro il peggio ok inizio a riempirla con eternit sbriciolato cherosene piante strane ci metto il laudano ci metto la digitale ci metto l'acconito ci metto lo stramonio inizio a metterci l'oleandro ci metto tutte le piante più bastarde che esistono sulla terra poi accendo il tutto ovviamente agevolando la combustione con del cherosene faccio la mia bella boccata dalla mia bella pipa che può essere una Morelli può essere una Savinelli può essere la pipa più figa del mondo faccio la mia tirata muoio sul colpo perché mi sono inalato in un colpo solo eternit, acconito, cherosene e tutto quello che vi ho detto e beh allora a quel punto secondo voi se io dovessi fare una cosa del genere ok carico la mia pipa accendo fumo muoio poi arrivano i giornalisti mi vedono lì con la pipa in mano con dentro il peggio secondo voi danno la colpa alla pipa o danno la colpa alla mia coglionaggine o eventualmente a quello che ci ho messo dentro io spero a questo punto che la colpa in termini di stesura del fatto di cronaca venga assegnata a me o al massimo a quello che ci ho messo dentro non alla pipa ok se dovesse iniziare a esserci la pessima abitudine di fumarsi l'aconito idratato con la benzina e cosparso con un topping di ethernet tra i ragazzi su una pipa questa se dovesse diventare la nuova moda tipo blue whale ok invece che fare i coglioni come sul blue whale facciamo i coglioni fumandoci l'ethernet in una pipa bene secondo voi se dovesse succedere così e iniziassero a morire dei ragazzi per questa cosa inizierebbero a mettere al bando le pipe o inizierebbero magari sì vabbè magari qualcuno direbbe eh ma le pipe bisognerebbe fare una vendita controllata eccetera ma poi tutto tornerebbe come prima mi auguro la seconda perché una pipa non è il problema nel caso in cui uno dovesse morire per aver fumato dentro una pipa l'ethernet con il cherosene ecco stessa cosa è successa nel caso in questione anzi nei casi in questione dei sei morti in America di cui alcuni in Illinois e altri in altri stati cosa è successo che praticamente questi qui si sono procurati a quanto pare dal mercato parallelo ovvero spacino per strada dei liquidi delle cartucce di liquido contenenti THC che è il principio attivo della marijuana il problema è che queste cartucce riempite di THC avevano dentro anche altra roba ora questa altra roba sembrerebbe essere la vitamina E acetato quindi l'acetato di vitamina E premesso che la vitamina E non è solubile in acqua ma è solubile in grasso già quando c'è qualcosa che è solubile in grasso non è molto buona cosa metterla dentro una sigaretta elettronica e di fatti una delle regole principali della sigaretta elettronica che chiunque un minimo appassionato conosce è di non metterci assolutamente i liquidi grassi o meglio gli oli all'interno questo perché perché come vi ho spiegato prima dato che stiamo parlando di una resistenza elettrica che si scalda metterci dentro della roba grassa degli oli e vi dicendo sarebbe né più né meno come versare dell'olio su una padella bollente che cosa succede al di là che schizza dappertutto e vabbè il problema come sapete bene se cucinate un minimo nel momento in cui voi andate a versare dell'olio su una padella bollente quell'olio molto facilmente supererà il punto di fumo e inizierà quindi inizierà proprio a far fumo nerastro praticamente verrà fuori il classico odore da fritto merda della sagra con l'olio esausto e quella roba è cancerogena quindi mai e poi mai mettere roba oleosa all'interno della sigaretta elettronica questa è una delle regole principali chiaramente quando abbiamo una vitamina E acetato che è liposolubile il dubbio che qualcosa di male possa prodursi nel momento in cui voi andate poi a svaparvela c'è ed è assolutamente presente questo riferito solo alla vitamina E acetato che sembra essere un po' il punto di unione il trade union di tutti i vari casi di decessi legati a sigaretta elettronica negli Stati Uniti qual è il punto il secondo punto però che al di là della vitamina E acetato questi qui si sono comprati della roba da svapare quindi della roba liquida dallo spacino per strada e allora torniamo alla solita regola ovvero torniamo all'esempio di prima della pipa se io vado dallo spacino per strada a comprarmi la marijuana ok e questo invece che marijuana mi vende oleandro misto ad aconito tanto per tornare alle piante di prima allora a parte che evidentemente sarei un po' un coglione io a scambiare marijuana per aconito e oleandro ma vabbè ma cosa succederebbe io andrei dallo spacino per strada gli dico oh zio ce l'hai un grammo di quella giusta lui mi vende oleandro e aconito io lo metto dentro la mia pipa dentro il mio bong dentro il mio cilum o quello che è nella mia cartina perché no rollo il tutto accendo faccio 4 tiri muoio e a quel punto che cosa si direbbe che uno spacino di bassa lega ha venduto merda tagliata o ha venduto tutt'altro a un povero cristo coglione che sarei io e il povero cristo coglione si è fumato la sua merdaccia e poi è morto questo direbbero bene è successa esattamente la stessa cosa con la differenza che invece che cartina bong cilum pipa lattina di coca cola narghile quello che volete è stata usata una sigaretta elettronica che come vi ho detto prima è un dispositivo quindi di per sé non è né bene né male dipende da che utilizzo ne fate e da che cosa ci mettete dentro come in tutte le cose che vanno fumate tutte le cose ok ora vorrei spezzare una lancia a favore del THC perché perché come dire ho hanno usato un po' la propaganda proibizionista nel momento in cui si è parlato di THC allora i famosi morti per ciccatronica degli Stati Uniti di cui vi sto parlando vorrei far presente che non sono morti per il THC il THC che è la molecola diciamo principale della marijuana nonché la molecola stupefacente non è letale o meglio è letale ma in dosaggi talmente elevati che non sono umanamente raggiungibili il THC di per sé non è letale lo dico perché non vorrei mai che in seguito a questa notizia come dire dilagassero due preconcetti o due leggende metropolitane in un colpo solo la prima leggenda sarebbe appunto che le ciccatroniche uccidono quando non è vero la seconda sarebbe che il THC uccide quando non è vero neanche questo il problema in questi in questi sei decessi è stato molto banalmente il contenuto di dubbia provenienza e di dubbia qualità che questi poveri cristi sono andati a mettere nella loro sigaretta elettronica questo è stato il problema in pratica stiamo parlando di gente che si è svappata il nulla o meglio il mistero più completo non si sa che cosa si siano svappati c'è questo sospetto sulla vitamina E acetato che chiaramente non è stata messa apposta ma è probabilmente derivata dal processo produttivo con cui hanno fatto queste cartucce al THC e niente quindi stiamo sostanzialmente parlando di merce adulterata che è stata utilizzata in buona fede suppongo perché non credo che nessuno volesse ammazzarsi e che ha dato esiti letali questo è di questo stiamo parlando di questo stiamo parlando né più né meno come se appunto ci fosse una partita di marihuana di cocaina di quello che volete illegale venduta nel mercato illegale tagliata male o addirittura contaminata che dovesse causare dei morti ecco la situazione è esattamente la stessa e ne abbiamo già sentiti a pacchi di appunto di notizie di cronaca nera in cui c'è il solito spaccino che ha venduto la dose di eroina tagliata con il veleno per topi e poi magari quattro ragazzi sono morti in qualche città italiana l'abbiamo già sentito tante volte sì è esattamente la stessa identica cosa quindi per fare il punto della situazione e del discorso la sigaretta elettronica non uccide di per sé è ciò che ci mettete dentro eventualmente ad ammazzarvi ok la sigaretta elettronica per suo funzionamento è un semplicissimo vaporizzatore per liquidi come lo è il vostro aerosol con cui vi spurgate la trachea e i polmoni quando avete la bronchite è lo stesso identico sistema di funzionamento o se volete funziona tale e quale ai famosi profumatori profumatori d'ambiente o umidificatori d'ambiente quelli che vedete anche in farmacia con tutti i led colorati con la luce che cambia sfumando che fa il fumino profumato ecco quello non è fumo è vapore ed è esattamente lo stesso principio della cicatronica stiamo quindi parlando di un oggetto ampiamente collaudato che non presenta problemi tecnici di funzionamento al di là dei malfunzionamenti tipici dell'elettronica quindi magari che ne so un cortocircuito un qualcosa che 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 fonde che si scassa eccetera ma questo riguarda tutto il lato elettronico e può colpire tanto la cicatronica quanto un telefono cellulare per esempio quindi al di là di questi problemi strettamente tecnici il funzionamento globale di per sé presenta meno rischi per la salute rispetto alla combustione quindi sicuramente le sigarette di tabacco quelle che accendete con l'accendino sono più pericolose di una sigaretta elettronica usata in maniera propria con liquidi certificati o anche liquidi fatti da voi in casa ma con materie prime di qualità ok questa base per esempio io non l'ho comprata cioè ho comprato la nicotina concentrata al tempo che fu prima che scattasse la TPD e poi mi compro glicolo e glicerolo e acqua in farmacia sono tutta roba è tutta roba certificata USP quindi appunto farmacopè ufficiale tutta roba buona insomma nel senso arriva dalla farmacia e io non ho mai avuto problemi guarda un po' certo è che se nella cicatronica ci mettete il liquido che vi vende lo spacino sotto casa che non sapete che cosa c'è dentro proprio perché è illegale e poi dentro si trovano robe che sono liposolubili e che quindi proprio in una resistenza elettrica che si scalda non ci devono andare e allora lì non possiamo più parlare di cicatronica così come se qualcuno dovesse morire perché si è fatto una dose di crack contaminata andiamo a dare la colpa alla pipetta da crack diamo la colpa alla lattina di coca cola che il tipo ha usato per fumarsi il crack o diamo la colpa che ne so ai venditori di cartine quindi ai tabacchini o diamo la colpa alla smoking o alla rizla perché ha fatto la cartina con cui il tipo si è ammazzato e no daremo la colpa o alla coglionaggine del tipo o se vogliamo entrare proprio nel merito diamo la colpa alla sostanza utilizzata ugualmente nella cicatronica io più di così non penso di potervi spiegare vi ho detto che quindi il THC non è il problema di per sé vi ho detto che la cicatronica non è il problema di per sé vi ho detto che non è lo strumento a fare il danno bensì ciò che ci mettete dentro io più chiaro di così non so veramente che cosa dirvi per essere più chiaro di così non so cosa dirvi per me la questione è palesemente stupida cioè stiamo palesemente parlando di aria fritta perché in realtà non sono i morti per la sigaretta elettronica così come appunto se qualcuno si fumasse l'Ethernet dentro una pipa non sarebbero i morti per pipa sarebbero i morti perché si sono fumati l'Ethernet eh uguale boh vabbè che dire l'unico consiglio che vi posso dare se avete dei parenti preoccupati o dei fumatori in casa che magari volevano provare la cicatronica ma in seguito queste notizie hanno detto no 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 meglio di no semplicemente vi posso dire che la sigaretta di tabacco sicuramente è mortale cancerogena e fa una strage di morti ogni anno se non ricordo male stiamo parlando di 8 milioni di persone al mondo ogni anno ok 80.000 persone solo in Italia tanto per dare una misura della quantità di morti sono circa nel mondo 13 morti a minuto ok questo video dura 30 minuti fatevi due conti cioè voglio dire sono già morte nel mondo qualcosa come 400 persone circa durante la durata di questo video perfumo questo è quello che fanno le sigarette di tabacco ok la sigaretta elettronica è molto ma molto ma molto più sicura molto più sicura ci sono studi scientifici che lo dimostrano quindi non è nemmeno vero che non abbiamo le prove scientifiche per dire che no invece ce l'abbiamo come le prove scientifiche su PubMed PubMed che è il come dire la più grossa biblioteca mondiale online di papers scientifici quindi di documenti scientifici che descrivono esperimenti ecco su PubMed potete trovare tantissimi studi sulla sigaretta elettronica studi scientifici che sostanzialmente dimostrano l'innoquità di questo prodotto innoquità si intende dire non che non faccia nulla ok ma rispetto a una sigaretta di tabacco è estremamente meno dannosa e i danni che fa non sono nemmeno qualitativamente comparabili ai danni da sigaretta di tabacco stiamo parlando per esempio di qualche danno cellulare alla membrana cellulare non stiamo parlando di tumori che arrivano ok tant'è che infatti praticamente la direi la totalità di chi passa la sigaretta elettronica nota subito nel giro di qualche giorno dei miglioramenti nella respirazione il tipico come dire il tipico avvenimento che normalmente colpisce l'ex fumatore passato alla sigaretta elettronica è che riesce a fare le scale non ha più il fiatone ok e questa è una cosa è una cosa palese nel senso che fare le scale di fatto è come fare step in palestra è uno tra gli esercizi più onerosi per il nostro corpo perché c'è un elevato consumo di ossigeno le gambe consumano molto e il fumatore ha una carenza di ossigeno non satura nemmeno bene non arriva al 100% di ossigeno nel sangue arriva al 96 94 98 quindi fare le scale è proprio la prova del 9 quella brutta bene chi usa la sigaretta elettronica conferma che dopo un tot di giorni o di settimane in base a quanto fumava prima riesce a fare le scale molto più agevolmente ora io stesso ho fatto una visita pneumologica circa un annetto dopo aver iniziato con la sigaretta elettronica e un anno dopo che avevo iniziato con la sigaretta elettronica dopo svariati anni di fumo di tabacco il medico mi ha detto che avevo una spirometria perfetta proprio perfetta con il grafico a campana come da manuale di medicina interna proprio perfetto per cui ora voglio dire non è chissà che prova però sono 6 anni che svapo dopo un anno avevo la 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 spirometria perfetta non ho più avuto problemi respiratori di alcun tipo sono appunto 6 anni che svapo in 6 anni se sta roba fosse stata anche vagamente pericolosa me ne sarei accorto pensate a che cosa vi fanno 6 anni di fumo di sigaretta già capite che quindi in 6 anni si sarebbe ben visto e io non sono l'unico utilizzatore di sigarette elettroniche al mondo da 6 anni a questa parte ce ne sono milioni se ci fossero stati dei problemi seri sarebbero già venuti fuori e non attaccatemi seghe strane tipo eh ma i danni a lungo termine non si può sapere ma andatemeli a fanculo perché i danni a lungo termine non vengono fuori dal nulla ci sono tutta una serie di segni e sintomi precedenti al vero e proprio danno a lungo termine che ti fanno perlomeno supporre la pericolosità del tal prodotto torniamo alle sigarette di tabacco benissimo l'esito finale in Fausto è il tumoraccio ma prima del tumoraccio non è che passate una vita di polmoni splendidi e salute a mille avete il cattarrone mattutino avete la bronchite più frequente non riuscite a respirare bene il fiatone quando correte magari qualche capillare rotto non vi tira più il cazzo cioè prima di arrivare al tumoraccio ci sono dei segni che forse segni e sintomi che forse il fumo di sigaretta non fa bene beh con la cicatronica segni e sintomi finora a me non risulta che ce ne siano né su di me né in termini di letteratura medica scientifica mondiale quindi non cacate il cazzo non pubblicate notizie di merda ok non diffondete cialtronaggine e fake news e per favore fate presente se ce ne fosse bisogno che non è lo strumento a fare il danno ma l'utilizzo dello strumento e soprattutto il contenuto di quello strumento che fa solamente da veicolatore di un prodotto interno lurido non lordo come dicono i subsonica ecco bene dopo questo questo rant rage video sfogo video spiegazione chiamatelo come volete io direi che è una buonissima giornata per fare una buonissima svapata allora qua il tumore che arriva no tutto qua dentro tanto non è un problema se usate dei liquidi decenti non dico neanche buoni dico decenti ok non compratevi liquidi per strada dallo spacino non decidete di svaparvi le cose strane tipo l'oxanax o il che cazzo ne so usate quelle cazzo di due dita di testa che forse avete e se non avete due dita di testa ascoltate quello che vi dico io usate dei liquidi validi buoni certificati specialmente in italia dove i produttori di liquidi veramente gli contano anche i peli del culo da quanto siamo scrupolosi i nostri liquidi italiani sono top siamo avanti come livello di qualità sicuramente più abbiamo dei controlli sicuramente più restrittivi che non in america e quindi volete svapare bene o vi comprate dei liquidi già fatti oppure vi fate voi i liquidi in casa con tutte le precauzioni del caso in casa e quindi comprando materie prime di qualità e senza fare pastrocchi strani ok senza fare estrazioni in cantina tipo oh zio adesso provo a estrarre il principio attivo della pesca e mettete le pesche tipo dentro la base neutra che poi vi va tutto marcio e vi svapate il marcio ecco se volete fare delle robe del genere non fatele tanto se siete abbastanza intelligenti sapete già che vi dovete documentare e se non ci siete arrivati lasciate perdere quindi svapatevi liquidi certificati comprati di qualità o se volete farveli in casa attenetevi a proprio il minimo sindacale ovvero glicole più glicerolo più acqua se volete più nicotina se volete più aromi se volete il tutto però proveniente da fonti certificate quindi la farmacia il che ne so il produttore di aromi famoso la base nicotinata dal produttore famoso certificato e tutto e via dicendo basta direi che ci sarebbe molto altro da dire volendo ma nello specifico penso di avervi detto tutto in questi 36 minuti 38 39 40 41 va bene bella ciao raga fate i bravissimi e per favore se questo video vi è piaciuto per quanto lungo spammatelo datelo via come il mais ai piccioni in piazza San Marco che è reato pure quello ciao raga dal vostro materico